Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con uno scopriamo che sicuramente farà sorridere parecchi di voi perché siamo impegnati con Accademia, School Simulator, è un simulatore di scuole in cui, da quanto mi è stato detto, dovremo costruire la nostra scuola e farla prosperare affinché coloro che ci studieranno dentro possano in qualche modo diventare gli eroi del domani detto ciò, io partirei, nel senso, non so bene cosa aspettarmi, però mi incuriosisce un sacco allora, personalizza la tua scuola la chiamiamo Falco School la scuola dei falchi, il motto della scuola un falco è per sempre, ecco, è per sempre, bene colore primario della scuola facciamo blu colore secondario blu, vabbè, c'è qualcosa eccolo allora facciamo icona 3 icona 3, le montagne icona 4 le chiavi no, vabbè, facciamo ecco, il compasso e il foglio falco school, bene, già, già, già sento puzza di cosa folle bene, allora, eh, sì abbiamo ah, ecco, ok allora io, io ho un limite di soldi allora, 55.000 soldi posso costruire quello che mi pare e nel momento in cui avrò finito potrò far cominciare l'anno scolastico io credo che a questo punto lo abbiamo oggetti ehm è bello complicato io adesso mi prendo un attimino di pausa costruisco qualcosa e ripartiamo da lì allora, la scuola è finalmente completa vogliamo dire completa bene, ho fatto qualcosina nel senso, ho fatto tre classi ehm, una da finire una cucina una mensa i bagni e l'ingresso perché li stanno usando tutti non sarebbero per voi i bagni vabbè si stanno proprio divertendo violentemente vabbè, a questo punto a noi ci manca da assumere tre cuochi che è quello che faremo adesso uno, due e tre dove vanno? ah, ecco, ok sono arrivati i pacchi di cose ok, quindi abbiamo abbiamo dei cuochi a lavoro bene poi bisogna ehm assegnare un ehm un professore alla classe delle nuove dei più piccoli insomma allora abbiamo Harley Dorney Sean Vanilla ma è una donna Sean vabbè ehm Sean Buzzini Rana Khalil don volante tutto sembra tranne che un don ehm dunque lui prende 500 dollari al giorno ma stai bene dove stai credo che a scuola nostra andrà benissimo uno che prenda meno di 300 chi è che prende meno di 300 al giorno? nessuno bene beh a questo punto allora penso che chiamiamo il don bonus di firma 6.000 dollari eh santo cielo te fai pagare caro alla faccia del don vabbè eh assunto assunto bene basta uno per tutti e tutti per uno bene ehm adesso posso posso partire con l'anno di lavoro bene vediamo che succede ok io ho diverse cose da finire no pensavo fosse di bimbi lavoratori potete anche scusate eh spaventate i bambini se no scusate un attimo sono arrivati i bimbi no sono i cuochi perché non vi chiudete dentro a una zona ecco chiudetevi dentro fate i bravi staff do anzi ci mettiamo una porta normale così qua ci mettiamo bene sono arrivati i bimbetti che se ne fregano del fatto che la gente sta lavorando sono ottimi i bimbetti devo dire già partiamo bene ragazzini ehm la porta abbiamo 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 una scuola di 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 bene allora la tua scuola è sporca gli studenti potrebbero ammalarsi perché perché ci manca il bidello bidello allora fermi tutti facciamo la porta qua praticamente ogni zona che si crea ha la possibilità di essere a dei requisiti del tipo devo costruire la stanza del bidello ci vuole un lavandino fatto un tavolo fatto quattro sedie non si sa bene perché va bene e e deve essere all'interno di una struttura per cui gli mettiamo anche le piastrelle le piastrelle più banali che l'umanità abbia da offrire bene adesso non resta che assumerlo lo mettiamo qua e per adesso basta così direi ok allora tutti i nostri dolci bimbi chi è che è lui che com'è che si chiama Efren Gutowski no vabbè se si potevano cambiare i nomi era tipo la cosa più bella del mondo non si può vabbè già fatto 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 e fatto beh porca miseria però cazzo le bestie ma è tutto sporchissimo ma io ho un professore che cosa fanno gli altri niente mi tocca assumere altro ehm Harley Dorney ecco Sean Sean Vanilla qui vai ecco cosa sta facendo metti la cera togli la cera Sean Vanilla non t'ho assunto per questo però ma dov'è quello il Don pagato una fracca di soldi eccolo Don Volante Don Volante me fanno ridere Don Volante vabbè ma quindi qua ho 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 tutti affana sedia stanno io già lo so che sto gioco mi farà uscire di testa a me allora è finita la scuola bene se aveva questi fanno finta ehm Chantel vai Assunta bene delirio vabbè tutti queste sono 6.000 dollari di firma manco fosse in calciatore per far così vabbè mamma mia mamma mia ehm vabbè qua i lavoratori lavorano i cuochi cuocano il bidello bidella mi sa che toccherebbe piano in alto però del bidello eh anche ecco facciamo due visto che qua ci sono le bestie a lavorare sporchi ci sono i pavimenti sporchi di sangue al primo giorno di scuola ehm oggetti oggetti computer no la bacheca degli annunci ecco ne mettiamo un paio a rimanere un'altra volta eh santo cielo quanto costerà di cucina sta scuola comunque sarà sarà bello complicato nel senso che ci manca la sala computer ci manca eh la l'infermieria ci manca la l'ufficio professori credo la libreria e e la faculty che che immagino sia mi sfugge adesso cos'è la faculty penso penso sia la stanza quella un po' più un po' più seria di studio ehm ma 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 che schifo fa tutto quanto vabbè io direi che possiamo cominciare a fare no niente c'ho 6.000 dollari ma un po' dei soldi qua non arrivano cioè tutti a scuola abusivi non paga nessuno niente lo stato non ci dà nulla cioè siamo abbandonati a noi stessi mesade sì vabbè io intanto comincio a preparare la stanza per quelli allora mettiamo la lavagna il tavolo del professore la sedia per quelli in castigo nell'angolo e le stelle le sedie degli studenti anche qui per 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 costano 15 dollari queste ringraziando il cielo bene arriveranno altri studenti e mi toccherà assumere un'altra persona sicuramente eh è abbastanza un delirio sì eh decisamente sì però ecco toccherebbe magari fare fare la zona la zona la zona perché qua la vedo male l'infermieria la clinica addirittura 4x4 vabbè facciamola un po' più grande perché la vedo sul male andante ehm facciamo ecco facciamo una una bella una bella clinica tipo clinica privata poi muri 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 neri muri neri così capiscono che potrebbe essere il loro ultimo momento in quella stanza e la porta e la clinica la abbiamo poi penseremo ad abbellire eventualmente adesso non siamo perché gli operai mancano dentro la mensa cioè igiene zero proprio ehm allora a questo punto la nostra clinica è finta perché gli operai mangiano a sbafo pisciano continuamente io io veramente non non lo so vabbè ehm se uno gli facesse ecco un bagno quantomeno per dividere i bagni perché cioè il bello è che il bello è che l'ho 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 anche visti al bagno delle donne cioè siamo ai limiti proprio ecco vi fate un bagno per cavoli vostri per non dire altro ecco fatevi il cesso vostro andate a fare quello che dovete fare ecco mettiamo pure questo se no magari con la scusa del me scappa la cosa grossa vanno al bagno dei ragazzini e vorrei evitare che se mi schiassero le cose già me vedo la la le 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 donne incinta ehm per cui vabbè i soldi stanno a fini soldi fa piacere io non avevo previsto che potesse accadere quanto costa 10 dollari se faccio questo 500 dollari no mi sa che ne avremo un pezzo con con le cose e ma io come li pago i professori domani no scusate abbiamo abbiamo un po' troppi lavoratori lavoratori devo licenziare qualcuno di voi allora mangiamo mandiamo via Flo Flo è in scale mi dispiace Flo questo che c'ha il fisico da soffertore di minestrine ceril capellas ciao capellas quest'altro lanciatore di coriandoli di di coriandoli che cosa la tua scuola ha finito i soldi fortunatamente il governo locale ti ha garantito un prestito di 10.000 dollari meno male allora vedi che pure pure qua pure qua lo stato fortunatamente interviene se butta male allora a questo punto la nostra clinica potrà avere un pavimento evviva evviva ok bene rimane il fatto che vanno cacciati un po' di operai per cui lavoratori quelli secchi mi spiace penalizzare un po' la mia categoria ma Taunia Banter può andare a fare altro nella propria vita perché continua ad avere 13 lavoratori all'attivo devo pagargli anche il contributo quello di solidarietà per i disoccupati cioè c'è la cassa integrazione anche in accademia spero spero che no cioè nel senso la scuola è zozza e ho capito ma se io ci avessi ho assunto ho assunto i cosi ho assunto dove stanno Gianetta Williama Meritrig e Avis Klingeloefer ma chi che vabbè devo dire che la scuola promette un gran bene qui c'è cibo buttato lì tanto per nessuno se ne occupa loro sono prigionieri della cucina quanto sto vedendo mamma mia mamma mia ma ah ecco qui si passa nel giorno accesso non so se sia perché mangiano robaccia della mensa ma io io vorrei sapere perché dormono sulle sedie Gianetta andiamo a pulire ecco meno male ah io credo che per adesso ci si potrebbe fermare qua quantomeno per capire di che morte bisogna morire anche perché qua loro pisciano e fanno altro ma non vanno a lavorare manca un pezzo ragazzi manca un pezzo l'andiamo a mettere grazie la prossima volta eventualmente se ci sarà una prossima volta ci occuperemo della della clinica perché qui non ci sta il cosa del bagno stavano stavano gli uomini facevano pipì sull'erba vabbè la prossima volta eventualmente se ci sarà ci occuperemo della clinica la clinica per cui ragazzi niente fatemi sapere cosa ne pensate di accademia io vi lascio il link alla pagina sim del gioco in descrizione affinché potete provarla anche voi coloro lo vogliate ovviamente sondaggio sulla mia farcia in alto a destra fatemi sapere se volete rivederlo potetevi basta così detto ciò io scapperei lontano mille miglia da questo luogo orribile e osceno che chiamiamo scuola e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao